No alle truffe con l'attivazione dello sportello SOS Truffa Anziani, il comune di Pescara reagisce così alle diverse segnalazioni fatte dagli stessi cittadini. Al centro di questo progetto per il 2024 un'intesa con gli amministratori dei condomini del centro città. Gli anziani sono le persone più vulnerabili e fra i vari reati la truffa agli anziani è fra i più odiosi perché si vanno a colpire con le persone che sono più vulnerabili. Questa è la terza edizione che noi facciamo e ci vede coinvolti con tutta una serie di attività di informazione sugli anziani perché la truffa poi sono a manca bassa. Quindi adesso noi andiamo sia nei nostri centri sociali che hanno oltre 1200 iscritti sia quest'anno introduciamo per l'appunto il concetto di condominio solidale con il quale andiamo a informare gli anziani di stare attenti perché poi le truffe è vero che sono standardizzate però è anche vero che non è mai nessuno uguale all'altra. Quindi facciamo tutta una serie di informazioni e andiamo presso i nostri centri sociali. Quest'anno introduciamo il condominio solidale, infatti c'erano anche il presidente della Naci in questo contesto dove saranno anche, cerchiamo di far capire anche l'amministrazione del ruolo per esempio che deve avere l'amministratore ma anche degli altri condomini affinché il condomino solo possa ricevere anche un apporto concreto d'aiuto da parte per esempio degli altri condomini che in quel giorno sono nell'edificio. Noi ci siamo su questa tematica e riteniamo che dobbiamo dare un aiuto concreto agli anziani.